Fedez è l'artista musicale italiano con più iscritti su YouTube Un post di Fedez festeggia un grandissimo traguardo, il rapper milanese ha ottenuto un nuovo riconoscimento, visto che è l'artista musicale italiano che vanta il maggior numero di iscritti sul suo canale di YouTube Fedez è il più seguito su YouTube, arriva il premio La notizia è stata data proprio da lui stesso, Fedez è l'artista musicale italiano con più iscritti su YouTube e festeggia su social insieme al premio che sancisce questo ennesimo grande traguardo per il rapper La strada percorsa dai primi palchi a colpi di freestile fino a oggi è stata lunghissima e costellata da tanti sacrifici ma ora, con premi e riconoscimenti che affollano sempre più il suo loft milanese, Fedez manifesta tutta la sua gioia, visto che ha realizzato tantissimi sogni Suoi, ma anche quelli della sua famiglia, come ricorda spesso nelle sue canzoni che raccontano la storia di un ragazzo giovanissimo che è riuscito a farsi strada nel mondo della musica Accanto a lui, c'è una grandissima mamma Tatiana, la sua mamager, come la chiama Fedez, che lo segue in ogni suo passo e lo sostiene come solo lei potrebbe fare Da ormai un anno, però, è arrivata anche un'altra figura indispensabile per la sua vita e per avere ogni giorno la carica che lo contraddistingue su tutti i palchi, dove ha segnato un sold out dietro l'altro Di chi stiamo parlando? Ovviamente, dichiara Ferragni, la meravigliosa fashion blogger più in del momento, una fonte di ispirazione inesauribile Per la musica? Ovviamente sì, visto che è anche grazie a lei, o meglio grazie a Matilda, la meravigliosa bulldog francese della sua fidanzata, che ha dato vita a una delle hit più belle dell'estate 2016 Vorrei ma non posto è stato un grande tormentone e non solo, ha fatto sì, grazie alla frase dedicata a Chiara, che i due si conoscessero meglio e che, infine, si innamorassero Ma torniamo al premio di Fedez, quanti iscritti banta su YouTube? Oltre 1 milione 300 mila, una folla umana La stessa che in piccola parte, pochi giorni fa, ha letteralmente preso d'assalto il negozio di Berska a Milano per aggiudicarsi uno dei capi della capsule di Fedez Come direbbe lui, successi ne abbiamo Fedez e i suoi premi, magnifico Il riconoscimento come artista musicale italiano con più iscritti su YouTube non è il primo che Fedez ha avuto tra le mani, visto che, solo per fare un esempio, comunistico il Rolex, l'album che ha inciso insieme ai lunga AX, ha raggiunto quota 18 dischi di platini Come sempre, poi, il rapper condivide con i suoi fan ogni singolo traguardo raggiunto con la sua musica e, anche nel caso del canale musicale, decide di ringraziare così tutti i suoi follower Veare Golden, siamo d'oro, scrive Fedez su social, con un noi, appunto, che abbraccia tutti coloro che hanno creduto in lui sin dall'inizio o che hanno imparato a conoscerlo una hit dopo l'altra Conclude con il suo ultimo motivo di orgoglio, artista musicale italiano con più iscritti su YouTube, seguito dall'emoticon che rappresenta la medaglia d'oro e, immancabile, quella della mano che mostra le corna rock Grazie a tutti